Radio Firenze Viola Titt Viola Titt Viola Titt A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti noi ascoltatori Nella gara vinta per T2 da parte della Fiorentina nei confronti dell'Udinese ieri sera al Franchi vera boccata di ossigeno per il tecnico Beppe Iachini visto le voci di un possibile esonero circolati in settimana dopo il 2-2 in casa dello Spezia l'assoluto protagonista del match è stato senza alcun dubbio Gaetano Castrovilli autore di Due Reti ed un assist per Nicola Milenkovic per il numero 10 Viola sarebbe anche in arrivo il prolungamento di contratto fino a 2025 con adeguamento economico meritatissimo dopo quanto fatto nell'ultimo anno e mezzo per Fiorentina1.com Lorenzo Della Giovampaola Viola Titt Viola Titt A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola